Musica Come ogni lunedì i nostri consigli per chi sta cercando lavoro, vi proponiamo tre annunci, tre annunci diversi. Uno riguarda 16 receptionist addetti al centralino nelle sedi di Veneto, Emilia Romagna, Friuli, Lombardia, Trentino, Alto Adige per un contratto a tempo determinato. Chi è interessato può consultare il sito www.ranstad.it. La seconda offerta invece riguarda 30 export manager. Si richiede la laurea specialistica, la perfetta conoscenza del tedesco e del russo e l'esperienza maturata in ruoli commerciali. Nelle sedi di Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Friuli, Venezia, Giulia. Il tipo di contratto è somministrazione di lavoro, potete scrivere una mail a talenti-omana.it. Terza offerta invece riguarda 7 periti o ingegneri meccanici con buona conoscenza di AutoCAD 2D e 3D, Solidworks, lingua inglese, esperienze ad almeno due anni nella mansione, in provincia di Modena. Inizialmente si tratta di un contratto di somministrazione che poi potrebbe diventare anche assunzione diretta. Per candidarvi potete mandare una mail a modena-orienta.net.